Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Questa è l'ultima lezione del corso introduttivo ad After Effects Un corso introduttivo, in altre parole abbiamo visto le principali funzioni di questo fantastico software per creare grafica animata Corso dedicato, lo ripeto, a chi non ha mai utilizzato After Effects e voleva capire un pochettino come muovere i primi passi Abbiamo però visto quasi tutte le funzioni principali Abbiamo parlato dei keyframe, delle animazioni, delle proprietà dei singoli livelli, delle forme geometriche, degli effetti, degli effetti predefiniti E chiudiamo qui questa rassegna, non completa probabilmente, ma sicuramente utile per chi volesse muovere i primi passi con questo software Con l'effetto testo che compare, stile macchina da scrivere Cosa si intende con questa locuzione? Molto semplice, si intende questo Un testo che viene svelato lettera per lettera Molto semplice Voi direte, ma a cosa vi potrà servire? Sì, vi garantisco che potrà servire Quando meno ve lo aspettate le cose vengono richieste E voi sapete che c'è un modo per animare questo testo Molto semplice e molto veloce In realtà, per creare un'animazione tipo questa Faremo ricorso, dovremmo fare ricorso Agli animatori testo di After Effects Cosa sono gli animatori testo? Non ne abbiamo parlato e probabilmente ne parleremo nel modulo avanzato di questo corso Sono delle funzioni che ci permettono di animare in maniera molto precisa un testo Questo è un esempio, abbiamo creato un testo che viene svelato non nel suo insieme Ma lettera per lettera Come se venisse digitato su una tastiera o su una macchina da scrivere Per l'appunto Vediamo come funziona questa animazione Vi dico che non utilizzeremo in questo caso gli animatori testo Ma utilizzeremo gli effetti predefiniti Di cui abbiamo parlato già nella scorsa lezione Perché? Perché è molto semplice ed è molto veloce Non serve conoscere come funziona un animatore testo Per applicare appunto E per creare appunto un effetto stile macchina da scrivere In altre parole Cominciamo con il creare una composizione Tutto parte sempre da una composizione in After Effects Ricordatevelo Animazione Testo Per esempio Diamo una risoluzione Io qui ho scelto 1280x720 Ma voi potete scegliere la risoluzione che preferite Come sempre 25 fotogrammi al secondo Nel mio caso Ho impostato 12 secondi Per la durata complessiva della composizione Per quello che dobbiamo fare va più che bene Clicchiamo su ok Ed ecco qui la nostra composizione Inseriamo del testo Quindi Strumento testo Testo da animare Stile Macchina Macchina da scrivere Ok Torniamo con Autoutilizzare lo strumento selezione E centriamolo questo testo Possiamo centrarlo manualmente Lo abbiamo già visto nelle lezioni precedenti Oppure possiamo utilizzare lo strumento a linea Disponibile gratis In After Effects Quindi se è gratis Perché non utilizzarlo Ok Qui viene il bello Vogliamo animare questo testo Come se noi stessimo scrivendo sulla macchina da scrivere Posizioniamoci in timeline Nel punto in cui vogliamo far iniziare l'animazione Per esempio Qui Ok Andiamo tra gli effetti e predefiniti E cerchiamo Macchina Ok Macchina per scrivere Non da scrivere In After Effects La traduzione ha tradotto con per scrivere Forse è più precisa in realtà Trasciniamo l'effetto sopra il livello A cui vogliamo applicare il predefinito E rilasciamo il mouse Olè Fine Premiamo la barra spaziatrice E il gioco è fatto Il testo è stato animato Domanda Ma se io volessi far comparire questo testo più velocemente O più lentamente O se volessi far entrare questo testo un pochettino prima Un pochettino dopo Insomma Se volessi modificare questa animazione Come devo fare? Beh La risposta l'abbiamo già data nelle lezioni precedenti probabilmente Ricordo il tasto di scelta rapida sulla tastiera U Premuto una volta dopo aver selezionato il livello Ci mostra i keyframe corrispondenti al singolo livello Questi keyframe possono essere ovviamente selezionati Modificati Spostati Avvicinati Quindi nel mio caso specifico Se volessi far entrare il testo molto più rapidamente Basta avvicinare i singoli keyframe Proviamo Olè Al contrario se volessi prolungare l'animazione in un tempo più dilatato In un tempo più dilatato Basta allontanare i due keyframe Proviamo Ecco qua Il testo è molto 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 più lento nell'apparire Stessa cosa se volessi far entrare l'animazione un po' prima un po' dopo Basta selezionare i keyframe e spostarli nel punto in cui io ho intenzione di fare iniziare l'animazione I più come si dice i più attenti di voi probabilmente si staranno domandando ma non potrei fare la stessa cosa utilizzando le maschere assolutamente si volendo no però io ricordo che il nostro obiettivo è essere veloci e efficienti nel fare le cose utilizzare le maschere probabilmente non è la soluzione più rapida e veloce per quanto sia possibile Selezionare il testo utilizzare disegnare o meglio una maschera animare questa maschera come abbiamo visto fare già in passato Facciamolo rapidissimamente no? Impostiamo il keyframe Mi litigano sempre per come pronuncio le cose Keyframe Dicevo impostando il keyframe di chiusura andando un pochettino indietro e andando qui a modificare la maschera in maniera tale che in questo punto sia zero Un modo simile per creare un testo che compare In questo caso lo abbiamo fatto utilizzando una maschera Ma ripeto cerchiamo sempre di fare le cose in maniera semplice C'è un effetto predefinito perché non utilizzarlo perché perdere tempo con le maschere Vi garantisco che con le maschere avremmo molto 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 da lavorare nel modulo avanzato Quindi teniamoci queste cose più complesse per il futuro Io vi ringrazio come sempre mettete un like se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi a questo canale youtube Cercatemi sul sito internet www.fabioambrosi.it Ovviamente su facebook tutte le novità, gli aggiornamenti, i nuovi corsi e i tutorial live Torneremo con i video tutorial live nelle prossime settimane Non disperate, tutorial chiocciola fabioambrosi.it se volete richiedere un tutorial live Chiocciola fabioambrosi.it se volete richiedere un live Un tutorial live dal vivo qui su youtube su un argomento che vi sta particolarmente a cuore Grazie mille, al prossimo video tutorial Ciao